Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel novantesimo episodio della nostra serie sulla Master League con l'Inter con Ispro Evolution Soccer 2 Signori, allora, veniamo da una brutta batosta contro la Juventus, perdiamo 3-1 Siamo sempre in fondo a classifica con un solo punticino La situazione è un po' così, un po' così, traballante, però per fortuna non rischiamo mai l'esonero, almeno in questo pass Per quanto riguarda la classifica, gol, signori, abbiamo Ronaldo e Baboncita a quota 2 Che sono a metà classifica e poi basta perché, ah no, Claudio Lopez ne ha segnato pure uno, ottimo E invece classifica, assist man, abbiamo Ronaldo a quota 2 Che in teoria è il secondo in classifica e poi anche il resto penso che ci sia la moria delle vacche Infatti, infatti, moria delle vacche Signori, procediamo al prossimo incontro, procediamo all'incontro successivo, sì, io ho salvato Quindi procediamo all'incontro successivo E vediamo un attimino contro chi andremo a giocare questo giorno Allora, andiamo sempre a caricare, siamo sempre fuori casa Giochiamo contro il Leverkusen, ok Proviamo a rimettere, signori, la stessa formazione che ha giocato contro la Juve Quindi un 4-4-2 a rombo Questo, ok E andiamo a sistemare un attimino la situazione Valeria lo mettiamo centrale Vorlander lo mettiamo di qua Stromer lo mettiamo fuori per Matt Questo è un pochino più veloce E Spimas è più veloce, sì, quindi mettiamolo sulla fascia in difesa Spimas Vorlander, Ximenez Bursche A posto di Ronaldo Ronaldo a posto di Babangita E siamo tutti Giusto? No, Babangita a posto di Ximenez Babangita di qua Ximenez di là Bursche di qua Ronaldo e Claudio Lopez Va bene Giochiamo con le Leverkusen, signori Riusciremo a fare qualcosa di interessante Siamo sempre fuori casa Non lo so Ci proviamo Ci proviamo Noi non perdiamo mai la speranza, signori Non perdiamo mai la speranza Non siamo effettivamente ancora a squadra Perché la Juve ci ha fatto capire proprio questo Mannaggia a me Avevo recuperato un gran pallone con Claudietto Lopez Però non sono riuscito a sfruttarlo No Calma, 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 relax Min, calma, relax Bursche 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 Passala Non troppo Passala giusta Bursche mio Matt, Matt Perché? Perché? Qualcuno mi spiega perché avevo sia all'esterno che Parla Babangita che ha le praterie, signori Babangita subito alle praterie E se ne può andare Babangita, 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 Babangita Babangita Con le praterie Babangita, Babangita Attenzione, Claudio Lopez Per il Bamba Che avete Matt Che la crossa Mannaggia Buona, buona questa azione Dai, dai, dai Crediamoci No, 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 no Porca miseria, infame Ma dai, ma dalla giusta Su sta palla Cazzarola Ivano, Ivano, Ivano Vesci, Ivano Calcio l'angolo loro Zero Alberto La crossa Pallone messo al centro Cioè, l'avete visto dove è stata respinta la palla Dove c'è il loro giocatore Dove c'è il loro giocatore Dove c'è il loro giocatore, praticamente Io non ho parole Io non ho parole Vacci Bamba Vacci Bamba Grandissimo Bamba Vattene Bamba Vattene, no Grandissimo Allora, siamo un pochino più squadra Ecco Ma perché io parlo Ma perché io parlo Mannaggia Di un mannaggia Mannaggia di un mannaggia Matt Valeri Valeri ancora A fermare tutto E niente Non riusciamo a uscire Non riusciamo a uscire Babangita 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 Va piano Babangita Per Ronaldo Per Ronaldo Per Ronaldo Che No, ma dai Dai L'abbiamo fermato male Calcolato male il tempo Per fortuna Non ci ammonisce Era bruttino Il fallo Definitamente sì Definitamente sì Il fallo era bruttino Tu lancia la lunga Che abbiamo Ronaldo E Claudio Lopez Che sono carichi Sì A farsi superare di testa Sono carichi E sono di nuovo qua E sono di nuovo qua No Erano Errore Dove essere una finta di tiro Signori Per cercare di liberarmi Della marcatura Ma non è decisamente riuscita È riuscita Decisamente no Decisamente no Matt Facci tu Facci tu Matt Grandissimo Matt Calma Calma Ximenez Babangita Vai Babangita Vai Babangita Vai Babangita Grandissimo Babangita Bandissimo Babangita Dai così Ximenez Inter 1 Bayer Leverkusen 0 Bello signori Bello così Ronny Cerca subito Ximenez Che si gira Tira il volo E porca miseria Riusciamo a centrare la porta Inter 1 Leverkusen 0 Inter 1 Leverkusen 0 Non esaltiamoci troppo Signori Tignano in campo Mannaggia 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 Dai 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 Uffa Luffa Uffa Luffa Uffa Luffa Uffa Luffa No 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 Senza fallo Matt 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 Tignano Tignano Bravissimo Matt Bravissimo Matt Dovevi tenerlo ancora Però No No vabbè signori Ma univano Perché fa così Però No dai Non ci stiamo Tre ore Grandissimo Papangita Grandissimo Papangita E fa fuori due Trova il cross Univano però che si fa fare gol così No signori Non è Non è Non è Non è Non è tollerabile Non è tollerabile Univano perché si fa Per fare gol così Dai Cioè Guardate il pallone Guardate il pallone Guardate il pallone Cioè Noi A sudare sette camicie Per fare un cazzola di gol Niente Io in modalità Guardo il pallone E certo Lui fa sempre vedere Le azioni degli altri Le azioni degli altri Le fa vedere sempre Perché sono tutte rischiosissime No 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 Bucco terribile Questa volta Ivan aveva voglia di parare Signori Calcitandolo Quarantesimo Aiai Quarantesimo Parte il traversone Torama riesce a buttarla fuori Non c'è nessuno Sulla respinta Però Ivan Vanno per questa volta in posizione Subito rilancio lungo Alla ricerca di Claudio Lopez Che non riesce a spizzarla Bene di testa Però lo riusciamo a recuperare Il pallone Lo riusciamo a recuperare Lo riusciamo a recuperare E lanciamo in profonda Ximenez Ximenez Che Che cerca subito Claudietto Lopez Che cerca C'è Ronaldo lì C'è Ronaldo lì C'è Ronaldo lì Perché Perché ci dobbiamo complicare la vita Perché ci dobbiamo complicare la vita E dobbiamo regalare poi Tanto era fischia Quindi inutile Mi impegno in qualcosa Giustamente Giustamente Sta aspettando Perché dalla rimessa laterale Lui la può crossare E può nascere qualcosa di interessante Giustamente Giustamente Ora che io riparto Lui fischia Scontato Scontato Come poche cose al mondo Va bene 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 Ok Mannaggia Oh mannaggia Che cazzola di gole Ci siamo fatti fare Dai però Dai però Dai però Con calma Con calma Con calma Perché Bavanggia ci sta tre ore Per farsi Trovare Dai 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 calma Calma La mette al centro No Ma Ma io tre ore Per liberarmi di sto pallone E cercare un compagno libero Tre ore Tre ore Signori Tre ore Tre ore Quello da solo Da solo Non l'ha chiusa nessuno Non l'ha chiusa nessuno Non riesco a trovare un compagno libero Signori Quelli Da soli Se ne vanno Mi ha levato il cosino Da 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 Babangida Per far andare il difensore Che era a tre chilometri di distanza Signori Tre chilometri di distanza Babangida si libera Babangida 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 Decide di crossarlo Claudio Lopez Decide di crossarlo Decide di crossarlo Claudio Lopez Ai 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 C'è poco da Da commentare Signori Era solo in difesa Era solo davanti alla 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 difesa Ecco una buona chance Sono in modalità silenzio stampa Oh gran gol di babangita signori Gran gol di babangita la riprendiamo La riprendiamo 2 a 2 Forse se sto zitto riesco a giocare meglio Forse se sto zitto riesco a giocare meglio Vi alzo il volume signori Così io sto zitto Voi vi godete la partita 3 a 2 signori 3 a 2 Grandissimi Grandissimi Bella l'azione Bella l'azione Bellissima l'azione 3 a 2 3 a 2 Ecco C'è un po' di agitazione Forse ci sarà un campo Non riescono a chiudere l'azione Martina è il processo Martina è il processo Cerca spazio Prova ad aprire il suo impatto Cerca di anticipare l'avversario Si inserisce di colpo Si inserisce di colpo No è fuori Non può mangiarsi un gol così E' un contrasto pericoloso Palla in aria Fuori di molto Riesce a tenere Riesce a tenere Mantiene il processo Prova ad intercettare Buona la difesa Devono riuscire a chiudere quel basso Trasso al centro Finisce signori Finisce Prima vittoria in campionato Dai così Contro il paio delle Perkusen Mamma mia che partita 8 tiri a 16 Porca miseria Ma vinciamo 3 a 2 Ronaldo per Ximenez Claudio Lopez per Babangita Claudio Lopez per Babangita Signori Porca miseria che partita Va bene così Va bene così Un applauso a tutti Bravi tutti Bravi tutti Ci portiamo a casa Una vittoria importante Una vittoria importante E saliamo a 19 punti Buono 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 10 punti sono importanti Ok E ci stacchiamo un attimino Anche se non tantissimo Dalle zone basse della classifica Ok Ok Battiamo la Perkusen Che era 3 punticini E lo scavalchiamo in classifica Vediamo un attimino La classifica Cannonieri Che poi la vedremo Anche nel prossimo episodio Babangita Quota 4 Ronaldo A fermo a 2 E poi gli altri Non c'è più nessuno Tranne la Lopez Ximenez A gol 1 Astizman Ronaldo Quota 3 Lopez Quota 2 Spima Quota 2 Va bene così Signori Andiamo bene Andiamo bene Detto questo Signor Io vi ringrazio Per aver dato questo video Vi ringrazio per il like Per i commenti Per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao